Questa mattina parliamo di musica, lo facciamo in studio con un amico, un grande professionista, il maestro Luciano Pompilio che è tornato a trovarci. Buongiorno maestro, bentrovato, benvenuto. Buongiorno, grazie. Nel led la copertina del tuo ultimo lavoro musicale, Impromptu. Senti, ma questo titolo così particolare? Impromptu vuol dire improvviso. L'ha scritto un compositore italiano-messicano, Simone Giannarelli, che mi ha inviato a questo brano durante il Covid, cioè il lockdown. È stata una sorpresa perché è un compositore importante e quindi ho dato il titolo al CD perché mi era piaciuto questo improvviso perché la musica è un po' è strana, è proprio un improvviso, uno stato d'animo del compositore. Molto belli anche i colori, non so se li hai scelti tu o chi ha realizzato la copertina. No, no, la digressione musica. Digressione musica, molto bella. Allora, ci racconti qual è l'idea di fondo di quest'opera? Di tutto il CD, no? Di tutto il CD, se... diamoci del tu, così semplifichiamo la conversazione. Se c'è stata, come dire, una linea guida, un filo conduttore che ti ha accompagnato... Sì, diciamo che questo è il mio nono CD, no? Ho fatto altri CD in duo, in trio, con l'orchestra, con il quartetto d'archi di San Pietroburgo. Questo posso dire che è il CD della maturità perché ho scelto della musica dove c'è la sostanza musicale, e ho scelto compositori quasi non chitarristi, perché sappiamo che i chitarristi, i compositori chitarristi, cercano sempre di sbalordire con effetti tecnici, no? Spettacolarizzare il brano. Io invece volevo qualcosa che seguisse la linea del cuore del compositore, quindi uno stato d'animo del compositore, infatti i brani di Gerard Rosed, di Tasman, sono compositori a livello mondiale, dove non ci sono questi cliché chitarristici, ma loro hanno scritto musica quello che loro sentivano. Hanno scelto la chitarra come timbro, però in linea di sostanza è quello che loro sentivano di scrivere, per questo motivo. Molto bello quello che dici, seguire la linea del cuore, perché la musica fondamentalmente è questo, no? Sì. E anche razionalità, immagino, disciplina, però è anche emozione. Sì, diciamo è quello, rispetto alle altre arti, la musica è quella più immediata, no? È quello che ti... cioè, tutti noi siamo stati coinvolti, ci siamo stati commossi anche di qualche melodia, oppure da gioia, insomma, la musica è quella più immediata. Per questo motivo ho provato questi brani proprio per... Infatti io quando suono questi brani ho una mia storia, ho una mia immagine, quindi non è soltanto spettacolarizzare il brano. Un'esecuzione, una mera esecuzione. Poi una cosa, una curiosità che mi è sempre venuta in mente, quando ammiro chi suona un musicista, quando vado a un concerto e chissà che sta pensando in quel momento. La sensazione è che voi facciate un viaggio attraverso... è un po' così. Sì, sì. Impersoniamo... a volte, esempio, c'è un brano Barrios di un compositore paraguaiano che si intitola La Cattedrale. Io in quel brano immagino di essere nella cattedrale, immagino la cattedrale, la gente che esce festosa dalla cattedrale. Quello è la bellezza di un interprete. Hai citato il Paraguay, sui tuoi social racconti di questa esperienza che ti ha portato proprio in Paraguay dove sei stato insignito di un importante riconoscimento dedicato ad un musicista paraguaiano. Il musicista in questione è Augustin Barrios Mangoré. Quello di cui parlavi appunto questo brano, La Cattedrale. Sì, diciamo che c'è tantissime coincidenze che mi hanno portato lì. Primo perché avevo una tournée in Sud America, in Argentina, e per quell'occasione ho chiesto all'ambasciata paraguaiana di estendere la mia tournée, visto che avevo inciso da poco l'altro cd, il penultimo, di musiche di Barrios Mangoré. E mi hanno dato il nome di Gloria del Paraguay, che era la delegata alla cultura in quel periodo, 2016-2017. E così ho scritto una mail e lei è contentissima di questo, ha organizzato 4-5 concerti. Però poi in prossimità della partenza, chiedendo dove ci incontriamo, dove, come facciamo, perché io stavo lì, dovevo stare a Buenos Aires, non mi ha più scritto. Poi ho saputo che lei è stata male, è stata quasi in coma, così si è svegliata sognando un frate, eccetera, eccetera. L'anno successivo Gloria fu invitata dall'ambasciata paraguaiana a Roma, dove lì vide la foto di Padre Pio. Chiese a una delle persone che stavano lì domenica mattina chi fosse. E dice, Padre Pio, come io l'ho sognato, tutte queste cose qui, è venuto a San Giovanni Rotondo. Perché questo signore ha detto, devi a questo punto visitare il santo che è a San Giovanni Rotondo. Venne a San Giovanni Rotondo, guarda caso, in una pensione dove è di mio fratello. Chiese, chiese, conosci un chitarrista italiano perché io a febbraio devo suonare a Bari, mi serve qualcuno che mi accompagni, mio fratello, dice mio fratello. E quindi tutte queste coincidenze, poi ci siamo incontrati, lei, il direttore artistico nostro è Padre Pio. Va bene, perché per lei, anche per me, è qualcosa di una coincidenza strana. Una dioincidenza, direbbe qualcun altro. E poi ho rilasciato un cd, e questo cd lei l'ha sottoposto al Consiglio, al Collegio Nazionale del Paraguay, dove hanno deciso di darmi questo premio importantissimo, forse uno dei premi più importanti, premi civili del Sud America, che si chiama Premio Repubblica, quasi ambasciatore della musica di Agustin Barrios Magore. E così sono andato, sono stato invitato, ho suonato davanti a duemila persone, mi hanno regalato una chitarra da concerto, è stata un'esperienza incredibile. Quello che mi colpisce di questo racconto, Luciano, è la serenità con il quale racconti qualcosa che potrebbe davvero anche avere dell'incredibile, perché comunque ti trovi da San Giovanni Rotondo a rappresentare la musica di un compositore paraguaiano nel suo paese, nella sua terra, quindi mi piace proprio questa umiltà con la quale ci hai raccontato di questo importante premio. Facciamo riferimento anche alla rassegna concertistica, della quale abbiamo spesso anche parlato, che l'estate va in vacanza naturalmente, in concerto tornerà a quest'autunno immagino. A settembre, tornerà a settembre. Abbiamo già una data? Il 13 settembre. Bene, a metà settembre, ottimo. Metà settembre. C'è già qualche nome, di solito una rassegna concertistica, un appuntamento al mese, giusto? Sì, uno, due al mese verranno pianisti importanti della Francia e della Germania. Adesso non ricordo bene la successione, però ci sono nomi importanti del panorama musicale mondiale. Bene, allora poi sicuramente tornerai a trovarci per raccontarci appunto della rassegna concertistica in concerto. È arrivata la sua? Ventesima edizione. Ventesima edizione, quindi avete superato la maggior età. Allora, grazie, ricordiamo il tuo nono lavoro musicale, impromptu, digressione musicale, così è giusto, del maestro Luciano Pompilio, che è venuto a trovarci questa mattina nei nostri studi, che ringraziamo davvero per la disponibilità. Poi magari la prossima volta ti invitiamo chitarra alla mano, ci farai ascoltare qualcosa, ci organizziamo un po' meglio e ci farai ascoltare qualche pezzo tratto dal tuo ultimo lavoro musicale. Grazie ancora, buon lavoro, buon estate.